Potete vedere, ci ritroviamo ancora una volta su Ark, Anunnaki Genesis, all'interno della mappa The Center, perché oggi faremo una sorta di test, una sorta di esperimento per la scienza. Dato che abbiamo in questo momento un gigantosauro, diciamo normale, quindi un gigantosauro di livello 836, diciamo normal, quindi nell'ipotetico caso preso così, selvatico, quindi la vera potenza del gioco, perché sappiamo benissimo che il gigantosauro rappresenta possibilmente il dinosauro più forte, oltre ovviamente alla viverna, qualora abbiate la possibilità di prenderla, all'interno del gioco. Io parlo sempre di dinosauro terrestre, quindi non volatile. Poi abbiamo il T-Rex, che è uno dei tire medi del gioco, dato che comunque è, tra virgolette, abbastanza semplice da tamare, ma al tempo stesso difficile da poter gestire. Cosa possiamo dire, diciamo, cosa possiamo dire in merito al T-Rex? Che ovviamente, essendo un tire medio, è abbastanza facile da prendere, e come danni, diciamo che, se non giocate in PvP competitivo, e quindi non volete fare, diciamo, troppo, in generale, una marea di danni in poco tempo, il T-Rex potrebbe essere la vostra scelta migliore. Poi vabbè, addirittura l'alfa gigantosauro, che tecnicamente neanche è possibile tamare, ma che noi abbiamo tamato appunto grazie alla nostra mod, così come anche l'alfa T-Rex, che era impossibile da tamare, e quindi abbiamo visto, effettivamente, come viene rappresentato il danno, o come viene rappresentato, diciamo, il dinosauro più forte all'interno del gioco. Senza contare, ovviamente, il... senza contare, ovviamente, il Rafus, che sarebbe il Dodorex, praticamente, demoniaco, della mod Anunnaki Genesis, che fa dei danni assurdi, scusate, o addirittura Primordius, che sarebbe, praticamente, un dragone, però mutato, tecnologico, super, ultra, mega figo. Qua ne fa tempo un Elite Dodo, che non mi interessa. Ok, cosa facciamo oggi? Oggi non so se riusciamo a tamare qualcosa, anche perché volevo, diciamo, tamare un Carnotauro Alpha, effettivamente non è molto worth, nel senso che non ci aiuta più di tanto, però potremmo benissimo andarcelo a tamare. Io volevo, innanzitutto, fare un paragone, un, diciamo, un test, per quanto riguarda i miei dinosauri, e vedere, effettivamente, come vengono rappresentati i danni nei dinosauri che, appunto, possediamo. Con un Gigantosauro, che addirittura danno a un mille, quindi, diciamo, un danno veramente elevato. Voglio vedere come si comporta contro, ad esempio, i dinosauri in giro, vedendo più che altro quanto danno riesce a fare. Ecco, già con un morso ha ucciso un Carbonemis. La velocità, che ovviamente è stata nerfata, è stata nerfata in maniera prepotente, perché mi ricordo che una volta il Gigantosauro era molto più veloce, quindi, già il fatto che sia così lento, non capisco effettivamente come. Allora, come danno? Beh, devo dire che si difende abbastanza bene. Mettiamogli un po' la stamina, giusto per... Bellissima l'animazione di quando aumenta il livello e che ti fa vedere la sua prepotenza. Lì c'è un Golden Dodo, che ovviamente non affronteremo, perché affrontandolo con un Gigantosauro, tra virgolette, normale, subiremo la peggio. Invece lo voglio affrontare, voglio affrontare questi due Spinosauri, e vedere Agonomi. Cioè, così, proprio... Proprio così, direttamente, ok. Facciamo un esperimento proprio per la scienza. Andiamo ad affrontare il Golden Dodo, anche se molto probabilmente questo Carnotauro ci morirà, quindi sappiatelo che ci morirà. Lo sto facendo solo ed esclusivamente per la scienza. Dopodiché lo affronteremo con l'Alfa T-Rex. Oh, invece no. Siamo riusciti... Siamo riusciti a batterlo. Ah, eppure dai, allora... L'ho sottovalutato un po' troppo il Gigantosauro. Effettivamente, anche se ci sono dinosauri nella mod che possono in un qualche modo... Che possono in un qualche modo competere, forse, col danno effettivo del Gigantosauro, non dobbiamo scordarci che questo resterà pur sempre un signor dinosauro. Certo, in acqua è ovviamente lento, ma mi sembra normale, mi sembra comprensibile che sia abbastanza lento per quanto riguarda il nuotare. Però mi sono rimasto piacevolmente colpito. Mi sono rimasto piacevolmente colpito. Quindi immaginiamo già come un Alpha Gigantosauro, soprattutto selvatico, possa effettivamente fare male, ma non solo ai dinosauri in generale, ma proprio fare male a tutto il vostro ecosistema. Senza considerare che Gigantosauro già di per sé riesce a danneggiare il metallo, quindi... Diciamo, riesce a danneggiare il metallo e quindi è un problema, soprattutto per i giocatori. Non voglio immaginarmi l'Alpha Gigantosauro, il problema che possa in un qualche modo procurarvi. Allora, mettiamo anche quest'altro Golden Keyball qui, così ne abbiamo già, direi, più che a sufficienza. Va bene, a questo punto, dato che non c'è bisogno di fare un test anche con l'Alpha T-Rex e con l'Alpha Gigantosauro, anzi, diciamo, l'Alpha Gigantosauro lo possiamo utilizzare così, giusto per vedere la sua grandezza. Ok? E la sua magnificenza. Direi che oggi ci concentreremo nel cercare i boss. Cosa sono i boss? I boss sono, appunto, sono quegli animali o comunque quei dinosauri che, tecnicamente, non potrebbero essere tamati in via eccezionale. Ovvero la Broodmother, il Dragone, il Bigfoot, eccetera, eccetera. Andremo in giro per la mappa a cercarli, a vedere effettivamente dove possiamo trovarli e dove possiamo sconfiggerli. Questo perché? Perché in questa mod è possibile tamarli. Quindi, ottenendo i loro trofei, che se io non sbaglio dovrei avere all'interno di Primordius, quindi dovrei avere almeno uno dei trofei, quindi la testa della Broodmother, per intenderci, a parte le selle di Alpha che già possiedo, che andremo a tamare giusto perché ho le selle, vedete, possiedo già il trofeo del Ragno Gamma, che praticamente è la testa della Broodmother che ci servirà per produrre il suo tributo, quindi produrre il tributo della Broodmother che ci permetterà di tamarla. Io non ho mai tamato la Broodmother, quindi non so effettivamente come farlo, praticamente, cioè non so come tamarla, però sicuramente ci studieremo qualcosa. Se vi faccio vedere qua tra consumabili, questo è l'engramma del tributo per il Drake, quindi uccidere un Drake vi consentirà di ottenere un Drake Trophy e insieme a un Golden Keyball potrete ottenere il tributo del Drake che, inserito manualmente all'interno del menu del Drake, riuscirete a tamarlo istantaneamente. Mentre invece questo, come potete vedere, è l'engramma del Boss Tribute, quindi con tre Golden Keyball e un trofeo ciascuno, quindi il trofeo Regina, il trofeo Megapiteco e il trofeo Drago Gamma, riusciremo a tamare uno di questi boss, come il Megapiteco, la Broodmother e anche il Drago, che è molto più forte rispetto al Drake, quindi questo andiamolo a sottolineare, è decisamente più forte. Nel suo tempo sento danni. Deve essere che qualcuno stia facendo qualcosa di male? No. Ok. Oh cacchio. Ok. Abbiamo fatto ciò che era giusto di diritto. E praticamente vi stavo dicendo che ammazzando ognuno di questi boss potremmo ottenere il loro trofeo per poi utilizzarlo come tributo. Quindi oggi andremo alla ricerca della Broodmother, che tecnicamente dovrebbe spawnare lì nella palude, così come l'abbiamo già vista alcune volte, e ci andremo appunto con il nostro Dodo Rex. Oppure, anzi, facciamo una cosa, dato che stiamo per l'appunto testando la potenza dei nostri dinosauri, ci andremo proprio con l'Alfa Gigantosauro, giusto per testare la sua potenza effettiva. Allora, incominciamo a muoverci. Allora, potete notare già che comunque la differenza di velocità è evidente. Quindi l'Alfa Gigantosauro già è decisamente più veloce rispetto al classico. Ovviamente la dimensione è molto più grande, il colore è molto più figo, dato che ha queste tonalità di rosso che accentuano appunto a sottolineare il fatto che stiamo parlando di un'Alfa. Quindi direi tantissima, tantissima roba. Senza considerare il fatto che camminando stiamo schiacciando Dodo, o comunque, vedete, stiamo uccidendo... Oh, un altro Golden Dodo. Ok, shottato. Malissimo, tra l'altro. E io mi raccolgo anche il suo Kibble Dorado, sinceramente. Anche se, effettivamente, devo conservarlo al suo interno. Madonna, 14 punti ha preso addirittura. Non riesce a pochirlo? Ok, l'ha colpito, finalmente. Questi maledetti pse... Te pego Mastax e uccellacci. Mi rubano gli oggetti. Quindi state attenti se li beccate. A parte il fatto che comunque ancora è notte. Vediamo che ore è. Madonna, proprio, sono ancora le due. Quindi, vabbè, direi comunque di aspettare il giorno. Io nel frattempo vado di là che inizio a cucinarmi qualcosa, dato che siamo per ora di pranzo. E nel momento in cui farà il giorno, andremo a cercare la Broad Mother. Ok, ragazzi. Sono andato di là. Nel frattempo mi sono preparato le cose da mangiare. E adesso... Cioè, mi sono preparato... Ho messo l'acqua sopra per la pasta. Quindi dopo un po' andrò a staccare. E adesso che praticamente si è fatto giorno, andremo per l'appunto alla ricerca della Broad Mother. Nel frattempo facciamo un po' di strage qua. Tra l'altro, la cosa figa è che... Otteniamo legno. Otteniamo legno e tutto ciò che ci interessa. Facendo anche una strage, direi. Una bella strage. Però la cosa interessante è il fatto che riusciamo ad ottenere anche il legno, la paglia, eccetera, eccetera. Io nel frattempo faccio stragi senza curarmi minimamente del... di tutto ciò che mi circonda. Alberi che si glitchano malissimo. Aumentiamo ancora i danni. Abbiamo 1.500. Comunque direi essere già più che sufficienti. Allora, la Broad Mother io tecnicamente l'ho vista l'ultima volta. non in questa zona, ma direi più in là. Quindi andiamo da questo lato, distruggendo ovviamente tutta... tutta la flora locale. Penso considerare il fatto che mi hanno attaccato 270 titano boa. Stiamo attenti... Ah, là c'è anche un castoro... Ma è un alfa o un bad S? Forse un prime alfa addirittura. Ma no, è un bad S perché dà elemento fuoco. Allora, io praticamente la Broad Mother l'ho vista, se non sbaglio, era in quella zona. Madonna, io sto a tempo qua, sto facendo una strage assurda. Madonna mia. Allora, fatemi pensare, perché io mi ricordo di aver visto la Broad Mother... in una di queste zone. Se non sbaglio, era addirittura da questo lato. Ecco, infatti, già qua si stanno vedendo degli Araneo. Quindi, ottimo segnale. Ottimo segnale, oserei dire. E io, praticamente, ho visto l'ultima volta la Broad Mother qui sopra. Possibilmente è appunto qua sopra. Per cui, giriamo da questo lato. Saliamo. Devo ammettere che la Broad Mother spunta abbastanza spesso. In queste zone. Allora, mettiamoci un attimo in prima persona, perché anche, tra l'altro, la vorrei vedere. Non so se sia ancora qui. Ecco, Araneo Minion. Questi Araneo Minion, praticamente, vengono spawnati dalla Broad Mother. Quindi, tecnicamente, la nostra amata regina, ragno regina, dovrebbe essere... Non dovrebbe essere così lontana. A meno che... Se ne sia andata altrove. Direi cosa anche... Giustamente qualificabile. Eh, quello è un Alpha? Eh, un Alpha... Prime Alpha, direi, addirittura. Era un Prime Alpha, quindi era impossibile da damare. Allora, niente, la Broad Mother qua non c'è più. L'avevo vista fino a qualche tempo fa. Adesso, invece, a quanto pare, non c'è più. Vediamo se la riesco a trovare, magari... Da questo altro lato. Mi danno un po' in questo tempo qua che combattono... Madonna, cos'è quello? In Elite ti danno un po', ah. Madonna. Oh, non si è accaduto più niente. Aumentiamo ancora la resistenza, che direi essere fondamentale. Dato che ne ha praticamente nulla. Tra l'altro, qui è possibile anche farmare le uova di Titanoboa. Visto che... Visto che è possibile, in un qualche modo, ucciderne in quantità industriali. La valuta, comunque, è una delle ambientazioni che mi fa più paura, ma al tempo stesso è anche forse una delle più belle. Perché guardate com'è bella in mezzo a tutte queste... Eccola! Eccola qui, l'abbiamo trovata. Broodmother, Araneo Broodmother, l'ielo 590. Direi tanta roba. Vediamo se riusciamo ad ucciderla. Anche perché, ragazzi, è un livello 590 perché... Non è un gioco da ragazza. A parte che il colore di questa Araneo è bellissimo. Di questa Broodmother. Veramente bello. Non è detto che riusciamo a batterla, eh. Ovviamente la Broodmother è un qualcosa di... Di pesante da sconfiggere. Stiamo parlando pur sempre di un boss. Sentite anche la musica come è diversa, come cambia. Riesce a darci un effetto addizionale, come potete vedere, di rallentamento, blind. Oh! L'Alpha Broodmother è stata sconfitta. Chissà se abbiamo ottenuto il trofeo. Anche perché non è una cosa che ci viene data... Sempre. Purtroppo. Quindi mi sa che proprio questa volta non siamo riusciti. Non siamo riusciti ad ottenerlo perché ci ha dato soltanto le perle nere. Però là c'è un inventario, c'è una borsa. Io provo a scendere un attimo. Magari senza farmi uccidere. Ecco. Oh, eccolo! Trofeo di Araneo. Ottimo. Quindi era dentro l'inventario. Perfetto. Siamo riusciti ad ottenerlo. Sono contento di questo. Perché così già ne abbiamo ottenuti due. Anche se noi ancora comunque ne serviva uno solo. Ne serviva uno solo. Però va bene. L'importante è che siamo riusciti ad ottenerlo. Ora dovremmo riuscire a tornare a casa e andare alla ricerca del prossimo boss. A parte che devo vedere dove è casa mia, verso che direzione è. Allora vediamo se è di qua. Sì, ok. Quindi dobbiamo andare da questo lato e poi da quel lato. Ok, ok. Ho trovato casa. Fortunatamente conosco abbastanza bene la zona dove ci troviamo. Quindi non è un grosso problema orientarsi. Ma vi posso assicurare che potrebbe essere problematico per i primi player. O che magari non conoscono bene la mappa così come la conosco io. Ok, portiamo ancora la stamina al 9000. La porterò penso fino a 1000. Dopodiché massimizzerò i danni a 2000 e poi massimizzerò la stamina fino al suo finale level up. Allora, come velocità direi che comunque non mi possa lamentare. È abbastanza veloce. Sì, vediamo se si sentono dinosauri schiacciati e distrutti. Allora, dovrei andare da questo lato, giusto? Sì, ok. Però adesso devo girare da qua. Là c'è un bad-ass pteranodonte di ghiaccio. Che non so che livello sia, ma lo scopriremo presto. 145. Niente di che. Quindi non l'avrei neanche da mano. Allora, attraversiamo... Cercherò di parlare anche un po' di me, no? Perché comunque mi è stato detto che il commentary delle volte possa anche risultare fastidioso. Quindi magari spiego soltanto quello che ho intenzione di fare. E poi lascerò il tutto al gioco. Allora, abbiamo ottenuto altre perle nere però che non sono male. Non sono assolutamente male. I gigantopitechi si trovano, o almeno io li ho trovati, vicino alla zona in cui abbiamo tamato i gigantosauri. Quindi, per fortuna che là comunque ho anche il teleport. Quindi volendo potrei anche teletrasportarmici con il gigantosauri. Effettivamente non è una cattivissima idea. Anche se forse potremmo andare con l'Alpha T-Rex. Lo proviamo. Anche se comunque avete visto che la Broadmother è stata piuttosto ostica come avversaria. Ma comunque, portiamoci questa volta all'Alpha T-Rex. Allora, vediamo se devo prendere cose dall'inventario. Ecco, infatti, però così divento troppo pesanti. Allora, questi li lascio qui. Ecco, li lascio addosso a te. Sì, non sono troppo pesante. E mi porto anche questo Golden Keyball a casa. Il trofeo di Broadmother lo mettiamo subito nella Workbench Anunnaki. Così lo conserviamo. Sono già due, anche se comunque a me me ne serviva una sola. Perfetto. Fatto questo, io direi comunque di portarmi sempre un teleport con me. Così magari se dobbiamo andare da qualche altra parte lo piazziamo nel frattempo. E ce ne possiamo andare, direi, con l'Alpha T-Rex. Verso la zona a noi interessata. Quindi andiamo qua e andiamo sul teleport. Non dovrebbe teletrasportare nessun altro perché comunque non ci rientra nel teleport. Ok, quindi diciamo con il nostro Alpha Rex. Oh, là c'è un supporto rosso. Andiamola a prendere. Beh, l'Alpha T-Rex comunque è bello veloce. Quindi è veramente tanta roba per spostarsi. Molto meglio del Gigantusauri. Oh, selle. Ah, sono i progetti delle selle. Comunque, vabbè. Io già li posso imparare, però. Va bene così. Allora, andiamo con l'Alpha T-Rex in giro. Facciamo un po' di strage. Non l'ho ammazzato subito? No, ma i danni sono molto più bassi allora. Anche se già ce li abbiamo a 2000. Comunque, andiamo un po' in giro. Andiamo a vedere se riusciamo a trovare. Vediamo se riusciamo a trovare dei Gigantopitechi. Poverino. Non è che dolore gli ho fatto. Ok, questi erano i Gigantopitechi, quelli classici. Cioè, quelli piccolini. A noi interessano quelli grossi. Allora c'è un T-Rex Poison. Vediamo come... Vediamo se mi addormenta. Anche se come torpore, no, effettivamente non me ne aveva fatto salire così tanto. Il Drake, per quanto riguarda il torpore, penso sia il più forte in assoluto. Bellissimo anche i danni che stiamo riuscendo a fare. Aumentiamo qua la stamina. Cattiamo la 8000 così possiamo girare tondo un bel po'. Anche se comunque devo ammettere che di velocità sono molto, molto impressionato dell'Alpha di Rex. È veramente figo. Molto veloce, molto, molto bello. Mi piace. Oh, una tigre B-S. Addirittura un lupo B-S. Allora, là c'è... Un Gigantosauro. Uh. Affrontiamolo. Eh, anche se noi abbiamo un Alfa T-Rex, non punterei sempre sulla nostra vittoria. Anche se comunque già lo vedo abbastanza insanguinato. Ok, no, non scherzo, lo uccidiamo. Che cinghialotti, maledetti cinghialotti. Ok, abbiamo sconfitto anche un Gigantosauro, giusto per provare che... Però guardate quanta vita ci aveva tolto, eh. Cioè, un Gigantosauro normale aveva tolto praticamente un terzo della vita a un T-Rex Alpha. Quindi vorrei farvi sottolineare la potenza di questo Gigantosauro. Quello cos'è un Alfa? Alfa Gigantopiteco. Beh, quello sarebbe buono da tamare. E io invece lo ammazzo. Rapido e indolore. Abbiamo ottenuto Apprendista Alfa Helmet. Figo. Bella anche la forma, tra l'altro. Vediamo se abbiamo ottenuto qualcos'altro invece. No, niente di che. Quindi le perle le mettiamo qua. Non gliele posso dare. Vabbè. Ok, non gliele posso dare. Vorrei effettivamente trovare i Gigantopitechi Boss. Quindi quelli... Belli cicciotti. Se non dovessi trovarli, ovviamente, farò un taglio e nel momento in cui li trovo ve li farò vedere. Anche se credo che non dovrebbe essere abbastanza difficile. A meno che dobbiamo andare verso la zona innevata. Forse la riusciamo a trovarli con più facilità. Oh, un'altra Broad Mother! Ma che cazzo? Affrontiamola col T-Rex. Vediamo se riusciamo nello stesso modo. Anche se, ovviamente, è decisamente inferiore la qualità. Anche se stiamo parlando comunque di un'alfa, quindi dovremmo riuscire a farcela lo stesso. Beh, la vita ancora mi sembra abbastanza buona. Vediamoci questo combattimento. Bene, approfitto. Guadagno trofei di Broad Mother, così poi ne riesco a tamare di più. Cioè, dato che comunque devo avere più trofei per fare più tangue, mi porto avanti. Però come colore mi piaceva molto di più quella di prima. Beh, come danni devo ammettere che è scarsa. O forse è perché sto utilizzando un'alfa io. Però come danni è veramente scarsa. Senza contare il fatto che se io, se non sono sbaglio, ho già messo un trofeo, forse qua dentro il portale. Tra l'altro mi sta attaccando anche in turezza alle spalle. Sicuramente la cosa... Forse stavo attaccando la Broad Mother. No, no, l'ha completamente disciolto. Bene, già rispetto al Gigantosauro siamo molto più lenti per quanto riguarda i danni al secondo. Beh, direi che ci sta anche. Dai, dai, dai. Come potete notare, gli Araneo Minion, che spawna praticamente la Broad Mother, dopo un po' spariscono. Quindi sembra anche un po' logico. Sto forse iniziando a vedere un po' di sangue. No, non vedo niente, non vedo un cazzo. Comunque, come potete notare, la differenza di danno tra Alfa Gigantosauro e Alfa T-Rex è evidente. Cioè, l'Alfa Gigantosauro è un qualcosa di veramente top. No, 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 non vuole morirci. nel frattempo ci sta già togliendo un po' di vita viaggiamo che quasi un terzo della vita se n'è andata no 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 allora regoliamoci un attimo ah qua c'è il nostro rinoceronte alfa nel frattempo che continua a fare un po' di danno ecco guardate che madonna i danni che riesce a fare è una cosa incredibile no comunque si effettivamente in questa zona dovrebbero apparire i gigantopitechi quelli ammodi eccolo eccolo addirittura sono due madonna questi mi faranno il culo questi mi fanno il culo ma eppure già lo vedo forse sanninare si già lo vedo forse sanninare sperando di ottenere il trofeo da loro e il yin kong come potete vedere sono abbastanza resistenti già certo non sono resistenti come come la broad mother almeno spero però si fanno sentire ecco fortuna che l'altro non ci stia attaccando e praticamente le stiamo affrontando uno solo perchè con due probabilmente avrei avuto qualche difficoltà il tempo il tempo dai 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 muorici madonna il cinghiale poverino ha fatto una brutta fine il mega piteco è stato sconfitto però a quanto pare non ha lasciato non ha lasciato zaino quindi non vorrei che infatti non abbiamo ottenuto niente eh scusami però se mi passi così davanti oh cocchio allora si effettivamente non ha lasciato niente quindi niente mi sembra che sono stato sfigato e devo andare ad uccidere anche l'altro allora l'altro è qua il mio rinoceronte dov'è? che me lo voglio portare non mi dire che stai venendo ad attaccare me lol allora dov'è il rinoceronte? dov'è il rinoceronte? vabbè madonna mia che piazza volita mi vabbè mica l'alforino di rinoceronte è stato sconfitto vabbè meno che forse è questo quello originale e non quello che ho sconfitto prima oh, lo scopriremo adesso lo scopriremo sconfiggendo questo tizio grazie a tutti ho il controller che piglia beh questo effettivamente ci sta facendo molti danni rispetto a non vorrei che sia una questione magari di livello piuttosto che di skin no? però ok anche questo mega piteco è stato sconfitto però non c'è stato dato nessun trofeo non c'è stato dato alcun trofeo e tra l'altro lui non ha lasciato nessuno zaino quindi perché non me lo danno? è così raro ottenere il trofeo del mega piteco porca miseria vabbè mi sa che dovrò andarne a cercare degli altri ah ci sono tx ma non mi interessa ci stanno facendo male va bene ora piazzerò allora un teleport qui probabilmente anzi vediamo se possiamo andare un po' più sopra magari ecco sembra anche corretto tu abbia cagato giusto per darci la buonanotte oh là ce ne sono altri due però facciamo le cose con calma dato che io comunque voglio piazzare già il teleport qua ecco lo mettiamo qui e ce ne andiamo a casuccia allora questo lo rinominiamo intanto e lo chiamiamo neve così e lo rinominiamo neve così adesso torniamo a casa cambiamo il dinosauro ah vero dovevo stare ecco infatti dovevo stare così per poter tornare a casa perché ci voglio andare con l'alfa di cantosauro oh cacchio dai ma perché fate tutto questo casino oh gesù ogni volta li devo risistemare va bene anzitutto andiamo a casa a posare i trofei che abbiamo ottenuto giusto per essere giusto per essere magari precisi in quello che facciamo e dopodiché devo andare ad ottenere gli altri trofei però questo direi che lo facciamo nella prossima puntata anche perché devo andare a controllare l'acqua della pasta anzi sicuramente già sarà in ebollizione però devo andare a prepararmi da mangiare quindi per questa puntata penso che possa essere tutto grazie ancora per essere stati con me e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti